E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo gli europei, la nazionale, anche il calciomercato e le varie notizie di tutte le squadre, domani dovrebbe essere il giorno buono per l'allenatore della Fiorentina, stiamo su quello, su tutti gli altri affari, vi invito a vedere i video se ve li siete persi, fatti in precedenza, la partita di oggi non l'ho commentata perché non ce n'era bisogno, alla fine è stata una partita che è andata tutto sommato o meglio sono due nazionali Croazia e Spagna che sono andate come si era un po' detto nel video pre-europeo, ma la sorpresa signori, la sorpresa arriva questa sera con la Francia che esce ai rigori contro la Svizzera, esce ai rigori in una partita arbitrata, non so se avete visto signori, partita arbitrata da Luca Fausto Momblano, l'avete visto che era in campo Luca Fausto Momblano, anche un buon arbitraggio, devo dire arbitro italiano, Rapalini mi pare si chiamasse, un buon arbitraggio, sebbene quel rigore che poi era stato dato in favore della Svizzera e sbagliato da Rodriguez non l'avrei dato perché mi sembrava che il fallo fosse fuori area, però in generale insomma una partita anche importante, un ottavo di Europeo è stato arbitrato bene. Altrettanto bene non ha fatto la Francia con un'eliminazione che per me è abbastanza sul capocollo, diciamo un'eliminazione in cui Deschamps ha un ruolo a mio avviso fondamentale, nel senso che non ho veramente capito perché sei sceso in campo con la difesa a tre volendo schierarti a specchio contro la Svizzera, sono nazionali quelle di Francia e anche Germania che hanno fatto della sperimentazione tattica, secondo me anche che si potevano risparmiare, erano due squadre che potevano assolutamente continuare a giocare o comunque giocare tranquillamente con un 4-2-3-1 che andava bene per tutte e due le nazionali, adesso da che Tuchel ha vinto la Champions League con la difesa a tre tutti vogliono giocare con la difesa a tre, l'altro giorno fino a un anno fa era il male in terra, la difesa a tre la schifavano tutti, non la faceva nessuno, adesso che qualche squadra, vedi l'Inter, vedi Conte, vedi Tuchel, il Chelsea hanno iniziato ad utilizzarla e hanno pure vinto, adesso è nato il contrario, cioè c'è la smania della difesa a tre, ma non tutti possono permettersela, ma non tutte le squadre hanno nello schierare una difesa a tre dei vantaggi, bisogna vedere condizione per condizione, questa cosa di Rabiot esterno, che tra l'altro Rabiot è stato anche tra i meno peggiori, secondo me della Francia contando anche che è stato un adattato, è un esperimento interessante ma non è una roba da fare in un ottavo di europeo, sono partite queste, ma in generale gli europei non sono partite in cui tu devi sperimentare, cioè gli europei, specialmente le squadre più esperte, le squadre che hanno dei campioni, le squadre che teoricamente arrivano a una partita dell'europeo, arrivano gli europei con delle certezze, ma sono squadre che quelle certezze lì devono metterle in campo, cioè fate conto quanti esterni al posto di Rabiot poteva mettere in campo in quel ruolo Deschamps, ma ce n'erano un sacco, con questo, ma non è per dire di Rabiot, è per Deschamps voglio dire, che ha fatto delle mosse tattiche secondo me assolutamente evitabili, anche uno come Coman, al di là dell'infortunio ma fallo giocare, fai un 4-2-3-1, metti le cose a tuo posto, Coman è uno dei giocatori emergenti in Europa, ma mettilo in campo prima, ma mettilo in campo prima, poi in generale c'è da dire comunque che sono due squadre, quelle di quest'oggi, che sono state veramente l'opposto anche per quel che riguarda la dedizione, cioè hai visto una Francia veramente spenta, ma una Francia che dall'inizio dell'europeo cerca di vincere in surplus, senza impegno, con la grandeur, diciamo mettendo in campo questa quasi che fosse naturale, prima o poi vincere la partita senza impegnarsi, con la minima fatica, senza soffrire, solo per manifesta superiorità, e invece non è così, specialmente nel calcio di oggi serve dinamismo, serve organizzazione, serve voglia, tutte cose che la Francia, eccettuato qualche singolo, non ha mostrato non solo in questa partita ma in tutte le partite precedenti, invece la Svizzera, al contrario, è stata una squadra tatticamente ben organizzata, una squadra vogliosa e soprattutto grande merito alla Svizzera perché dopo il doppio svantaggio, dopo quel bel gol di Pogba, bellissimo, non si è disunita, non ha detto bene è finita qua, è tornata con volontà, è tornata in corsa, è tornata a rifarsi sotto, non si è demoralizzata e ha portato a casa una grande partita, ha portato a casa dei supplementari e un passaggio di turno ai rigori, attenzione, perché molti dicono che questo è l'europeo dell'Atalanta, giustamente, perché ci sono un sacco di giocatori, non da ultimo stasera, Freuler, che ha giocato anche discretamente bene, ma penso ai Mele, penso ai Miranchuk, penso ai Malinowski, ai Deron, per carità, sicuramente, però è anche in piccolo, ma neanche tanto, è l'europeo di Pantaleo Corvino questo, perché attenzione a Norgaard, con la Norvegia e con la Danimarca, che tra l'altro è stato anche riscattato in queste ore dal Brentford, è stato riscattato quindi con anche una plusvalenza che viene fatta segnare dalla Fiorentina, ma soprattutto Seferovic, Seferovic ha fatto due gol stasera, che signori c'è due bijoux, due bijoux di Seferovic, due gol stupendi di testa, con una delle difese sulla carta, perché poi a livello di attenzione difensiva lasciamo perdere, ha una delle difese migliori in Europa, Seferovic grandissimi gol, ottimo centravanti, sottovalutato, Seferovic sottovalutato, e c'era già gente che dopo la prima partita diceva che era scarso, invece Seferovic è un ottimo attaccante, così come ha fatto un'ottima partita in generale Giacca, che, attenzione, un giocatore che io ho da due anni che pontatino alla Roma, primo essere qui umano, vigente, ad associare Xhaka alla Roma sono stato io, se Xhaka arriva alla Roma è un signor acquisto, anche per lideristica, carisma, e è un signor giocatore, avete visto che passaggio ha fatto per il gol di Gavranovic, io Xhaka non lo butto via mai, io Xhaka non lo butto via, non se parla di un Xhaka, che io che cosa ti posso dire, se fosse per me non lo buterei via mai, grande partita di lideristica, di attenzione, ma in generale tutta la Svizzera, in generale tutta la Svizzera, al contrario di una Francia veramente derelita. Vado con i voti, io vi invito sempre ad iscrivervi, che seguiamo, che seguiamo tutto il calcio a mercato, le notizie, l'europeo di divertenza e di devastanza, stanno vedendo tra l'altro bellissime partite, è questa, quella di oggi, quella di ieri, e da tre partite, le ultime tre sono state veramente tre partite un inno al calcio, oserei dire, un inno al calcio. Allora, Lloris, voto, ma gli do sei, perché alla fin fine non è che abbia fatto, anzi, sarebbe sei meno, perché comunque sul terzo gol della Svizzera poteva fare qualcosina di più, sei meno. Varane, voto, forse l'unico a salvarsi bene o male della retroguardia, sei meno però. Lenglet, voto dal 5 al 6, Kimpembe, voto dal 5 al 6, Pavard, mai visto, 5 e mezzo. Pogba, 6 e mezzo, anche se a correnti alterne, però solo quel gol secondo me vale un'ampia sufficienza, quindi Pogba, 6 e mezzo. Kanté non ai livelli del Chelsea, ma è da inizio europeo che è così, sarà anche un po' stanco. Gli do, gli do sei, però da lui ormai ci si aspetta anche qualcosina di più, eh. Rabiot. Rabiot, io gli do sei meno, perché comunque ha fatto una partita di dedizione, nel primo tempo è stato l'unico sufficiente, a mio avviso, della Francia. Gli do sei per l'impegno, la corsa e la dedizione, sei, sei meno. Sei meno perché la Francia è uscita, diamogli sei meno a Rabiot. Griezmann, non mi è piaciuto moltissimo, gli do 5 e mezzo. Benzema, gli do anche lui 6 e mezzo, perché comunque il suo l'aveva fatto. Mbappé male, 5 e mezzo oggi, da parte rigore tutta la partita. Giroud voto dal 5 al 6, Sisoko 6 meno. Turam voto 6, 6 anche se pure lui non ha fatto granché. Veniamo alla Svizzera, allora Sommer 6 e mezzo, non solo per il rigore. Elvedi voto 6 più, Akanji voto 6 e mezzo. Rodriguez, a parte il rigore sbagliato, non aveva fatto una brutta partita a Rodriguez. Però per quel rigore là mi tocca dargli dal 5 al 6. Widmer mi era piaciuto, specialmente in fase difensiva, 6 più. Freuler 6 più, Xhaka 6 e mezzo. Zuber tantissima roba, 6 e mezzo. Shakiri 6 più, Embolo 6 più, Seferovic 7. Voglio dargli il massimo dei voti, perché laddove Corviniano, tutti astrano i commenti, il laddove Corviniano, Seferovic 7. Mbappu anche lui molto bene dal 6 al 7. Vargas 6 più, Fasnacht 6, Mehmedi 6 più. Gavranovic gli diamo 6 e mezzo. Shakiri 6 più. Ha tirato un rigore senza glutine, Shakiri. Avete visto che ha tirato un po' così, diciamo, un po' tipo deglutinato. Va bene, però gli diamo comunque 6 alla secolare pontatina di Shara la Lazio, ok? Voto agli allenatori, Dechamp 5 e mezzo e sono buono. E Petkovic 6 e mezzo. Petkovic 6 e mezzo, perché comunque la Svizzera è una squadra di esperienza, una squadra, però era messa bene in campo, tatticamente organizzata, vogliosa, anche un bel gruppo, quindi una bella realtà, una bella sorpresa. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto. Grazie.